Il vaccino arriva nelle località balneari per convincere sempre più giovani e non solo ad aderire alla campagna vaccinale contro il Covid. Vaccini in spiaggia, una delle ultime iniziative del progetto Giovani si vaccinano della regione toscana, avviato nei giorni scorsi a Follonica, arriva a Porto Santo Stefano, uno degli angoli più belli della costa toscana. Grazie alla collaborazione con ANCI, le ASL Nord-Ovest e Sud-Est e le associazioni di volontariato portano dunque il vaccino con un camper direttamente dai cittadini. Non c'è l'obbligo di prenotazione, ci si può presentare direttamente qui e vaccinarsi oppure ci si può prenotare nel sito della regione toscana. Nel territorio dell'ASL Toscana Sud-Est l'iniziativa proseguirà a Fonte Blanda e Castiglione della Pescaia, poi il camper si sposterà nelle coste del Nord-Ovest della Toscana. Grazie.